Bella ragazzi sono Gigi Youtube Oggi ragazzi dovete ascoltare questo video importantissimo Perché? Perché praticamente è successa un'altra cosa che è già accaduta Cioè che praticamente Stavo registrando un nuovo episodio della carriera del Real Madrid E ho affrontato il PSG E ottavi di finale ritorno Ho vinto Quindi vi sto informando che Allora che non stava registrando Quindi tutto un bordele Un caos E quindi Ora vi informo su quello che è accaduto Allora iniziamo Andiamo a fare la partita Andiamo a fare la partita Vinco Quindi vinco la partita Non mi ricordo quanto Andiamo al quarti di finale E poi l'episodio Ho deciso di concluderlo là Perché poi ci stanno tantissime partite Della Liga Che concluderemo Concluderemo verso la fine di giugno Questa carriera Concluderemo verso la fine di giugno Nel senso che A fine giugno Finiamo questa carriera E poi continuiamo con PES Vi informo che Diciamo che PES 2022 Non credo Non credo che lo prenderò Ovviamente FIFA 22 lo prenderò Ma non credo che PES 2022 lo prenderò Formula 1 2021 Non so se vi porterò Una carriera Però molto probabilmente Avengers Lo continueremo Ho proprio fatto solo un episodio Mi scuso I video del Bari Non li sto registrando Perché avevo un grosso impegno Con la scuola Quindi Però vi porterò Come i risultati E poi Adesso Vi lascio stare Bella Bella